In Italia ce n'è soltanto uno e tutta Italia ne sta già parlando. Il museo della batteria di Fano è già sulla bocca di tutti. Al suo interno 25 esemplari identici a quelli suonati da grandissimi musicisti di tutto il mondo. L'intuizione vincente è stata di Daniele Carboni, appassionato collezionista che in più di 20 anni ha raccolto e restaurato diverse batterie gemelle di quegli strumenti originali che hanno fatto la storia della musica. Dopo tutti questi anni dovevo dargli un senso quindi o rivendevo tutto oppure ecco quello che mi è venuto in mente è metterla insomma a disposizione del pubblico e prevalentemente chiaramente degli appassionati di musica e di batteria che possono ammirare qui nel nostro museo tutte queste appunto kit personalizzati delle varie bande. La collezione parte dai primi del Novecento, la prima batteria che abbiamo qua all'ingresso è una batteria degli anni venti, poi passiamo alle batterie degli anni trenta, anni quaranta ma prevalentemente diciamo che le batterie più significative sono quelle degli anni sessanta, sessanta settanta dove appunto le band più famose come appunto dei batteristi più famosi come Ringo Starr, Ian Pace piuttosto che Charlie Watts, Kate Moon degli Yahoo o John Bonham, abbiamo la batteria di John Bonham che è una delle più imponenti all'interno, una Ludwig Vista Light trasparente che era molto molto diciamo innovativa all'epoca e sono tutte batterie tra l'altro che oltre che ammirarle si possono anche suonare quindi le metto a disposizione anche dei più giovani che vogliono intraprendere questo strumento. Le batterie sono tutte diciamo sono tutto nel mio cuore perché chiaramente dalla prima all'ultima hanno la loro storia e la loro importanza, una in particolare in particolare sono quella appunto di Ian Pace, una Ludwig Blake Oyster con il doppio timpano col quale Ian ha anche suonato venendo appunto nel 2000 a Fano nel nostro teatro a rendere un sogno diciamo la nostra band venendo a suonare appunto con noi quindi questa è una batteria al quale ci tengo tanto. Un'altra molto molto bella che ho riscoperto negli ultimi anni è una Iman, una batteria inglese con il quale suonavano i Genesis, i Cream e tante altre band che ha veramente una grande potenza e molto 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 bella. Poi abbiamo tutto un reparto dedicato al Made in Italy, sono le famose batterie di Meazzi, questo diciamo innovatore che ha iniziato a costruire violini poi è passato alle batterie che fin dagli primi anni 60 ha iniziato a costruire le Hollywood, batterie che quasi tutti i nostri nonni che suonavano dalle orchestre alle band beat piuttosto che alle band rock avevano. Poi abbiamo tante altre batterie come la Meazzi, appunto la Meazzi Jolly, un'altra Hollywood President diciamo che era il top di gamma del periodo fino ad arrivare alla Hypercussion che è una batteria dei primi anni 70, primi anni 80 col quale si cimentavano il rock progressive come la PFM, i Poo stessi. Il museo è stato pensato come un vero e proprio tempio della batteria dove la musica si ascolta, si osserva e si registra ma soprattutto si impara e si suona. Poi il sabato sera per chi volesse, per i nostri soci del club, associazione Luciano Bonfitto che è il nostro carissimo amico scomparso lo scorso anno che ha fatto tanti progetti insieme a me musicali al quale abbiamo dedicato appunto questa associazione che ospita il museo e facciamo dei piccoli concerti o degli spettacoli anche teatrali con delle apericene e chi volesse venire insomma dalle otte e mezza fino a mezzanotte siamo qua ad accogliervi. Il museo nasce per dare vita alla musica come ho detto suonata dal vivo, a dare la possibilità ai ragazzi e a quelli un po' meno ragazzi di studiare, di impegnarsi e di imparare un strumento fino a potersi vivere nel nostro parco così da dare vita e riuscire a mandare via questi due anni pessimi che abbiamo avuto che purtroppo la musica l'abbiamo dovuta eliminare. Abbiamo inoltre sì anche uno studio di registrazione, delle sale prova, ci occupiamo di produzioni musicali e non solo. Esatto, abbiamo in programma anche che partirà da gennaio questa scuola condotta da me come maestro e assieme ad altri professori insomma. Da gennaio ci si può iscrivere direttamente sul sito e poi si parte insomma. Noi puntiamo appunto a portare i giovani fin da piccoli ad approcciarsi a questo strumento facendo riscoprire la bellezza della musica. Visto che adesso sono tutti abbastanza improntati sul digitale, quindi sui computer, software e cose varie, fanno tutti musica da tavolo e allora noi si prova a spingere per portarli al riconoscimento di questo strumento che è la base di tutto.